E' un intreccio di date, luoghi e versioni diverse. Il racconto dei familiari della coppia trovata, fatta a pezzi in quattro valigie in un campo all'esterno della carcere di Sollicciano a Firenze, appare complesso e i cinque anni passati dalla loro scomparsa non aiutano a dipanare la matassa. Il ritrovamento dei due cadaveri però sta suscitando molto clamore in Albania, tanto che la trasmissione senza traccia, una sorta di chi l'ha visto nostrano, in onda su Report TV, sembra aver scoperto qualcosa di più. Dopo che erano scomparsi Dorina venne a casa a Valona, portò via tutta la roba dei suoi genitori, ha raccontato una vicina di casa dei Pascio in Albania. La donna ricevette anche una confidenza di Teuta prima che partisse alla volta dell'Italia con quattro valigie. Ti saluto perché non ci rivedremo più, le disse. Non è la prima volta che senza traccia si occupa della coppia. Più volte, infatti, negli anni, le figlie di Shpetim e Teuta hanno lanciato appelli e richieste d'aiuto per trovare qualche indizio sulla sorte dei genitori. Diverso, secondo la trasmissione TV, l'atteggiamento del figlio, Taulant, è arrivato in Albania, spiegano dalla redazione, ed è venuto volontariamente a dire che dovevamo continuare le ricerche. Poi, però, negli ultimi minuti dell'intervista, si è ritirato, dichiarando che i genitori erano adulti e che se si erano allontanati non bisognava più cercarli. Ha detto che non voleva fare loro un danno pubblicando i passaporti in TV e di non occuparcene più.